I pregiudizi, probabilmente gli stessi che avevo io prima di entrare 15 anni fa qui dentro. Ho perso il lavoro e la ditta ha fallito e quindi mi sono ritrovato in mezzo alla strada diciamo. L'ostello in questo momento per me è la casa. Un'operatrice che praticamente si vede che c'è stata questa cosa di proiettarla come mia figlia. Lei c'è stato questo transfer e quindi è stata una cosa bellissima. Un vero giubileo, come dice appunto il Papa, deve modificare le nostre coscienze. Per modificare i nostri comportamenti.